Buongiorno Sirmione, alle mie spalle vedete le grotte di Cattullo e il nostro lago. Intorno a me è un tripudio di colori. La primavera è sbocciata, ma prevale il senso di tristezza nel vedere alberghi, ristoranti e negozi fermi. Il pensiero e la preoccupazione va a tutti coloro che hanno perso in questo momento il lavoro e la propria fonte di reddito. L'emergenza sanitaria non è ancora terminata, ma in questo momento dobbiamo unire le nostre energie positive per la Sirmione della Rinascita. Grande è il desiderio di ripartire, ma forte è la consapevolezza di dover affrontare un importante cambiamento. Lavoriamo insieme per essere pronti ad ospitare e ad accogliere i visitatori e i turisti che verranno.